Ecco il misuratore di pH, questo attrezzo serve a misurare il pH dell'urina. Questa cosa, questo video che stiamo facendo per dirimere tutte quelle questioni, l'arancia, il limone, voi doveste misurare tre volte l'urina la mattina a digiuno, quando avrete due volte l'urina 7.4, allora mangiate il frutto e dopodiché la terza volta vi misurate l'urina e a quel punto vedete quel cibo che cosa va dato e così risolviamo la questione.